Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Bag of Chips e Crime Zoom, due giochi tascabili, velocissimi e davvero per chiunque, soprattutto da famiglie, che ci sono stati forniti in queste copie demo da Asmod Italia, che ringrazio immensamente di cuore ed è sempre un grandissimo onore collaborare con voi. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Quello che vedete qui davanti a me, alla mia sinistra, Bag of Chips e da questa parte Crime Zoom, sono due giochi tascabili, come detto poc'anzi, veramente molto veloci e sono i classici titoli divertenti, secondo me che danno anche la giusta sfida, soprattutto nel caso di Bag of Chips, che è un gioco che mette in contrapposizione i giocatori, cioè siamo uno contro l'altro, ovviamente un tipo di sfida molto easy, molto leggera, molto competitiva ma pulita, e invece da quest'altra parte abbiamo un gioco, come vengono spesso nominati in Legacy, ovvero il classico gioco che una volta finito non si può rigiocare, per quanto dobbiamo, siamo dei detective che devono risolvere un caso, quindi il caso, il finale, quello, magari le strade per arrivarci sono differenti e soprattutto le informazioni che riusciamo a capire dalla nostra ricerca come detective non saranno mai le stesse, perché magari una volta finiamo il caso con alcuni elementi, una volta lo finiamo il caso con altri elementi, però il finale è sempre quello, quindi è il classico gioco che da una botta e via, una volta giocato, tutt'al più, o lo riprendi dopo un po' di tempo, oppure ci fai giocare a un altro gruppo di amici per vedere appunto se risolvano il caso con i tuoi stessi indizi, magari ci mettono più o meno tempo di te. E sono due giochi veramente bellini perché sono tascabili, poi questo bag of chips è veramente carino, hanno fatto gli stessi ideatori di questo, anche la versione del ramen, che è anche carino, se non erro era anche sushi o qualcosa del genere, molto carini, e li fanno sempre a mo' di confezione, infatti questa volta è stata ganza che la scatola l'ho dovuta tagliare e si apre proprio come una confezione di patatine, perché in questo gioco noi dovremmo fare un po' di combinazioni precise, a mo' anche di slot machine, con le varie patatine e i simboli che ci sono sopra. In bag of chips all'inizio si mettono quattro carte davanti, che sono le carte praticamente dei vari turni, perché ogni turno è diviso in quattro sottoturni. Un giocatore incaricato prenderà questa bustina, ci metterà dentro tutte quante le patatine che sono i token che sono dentro e volta per volta, all'inizio che ne so ne andrà a distrarre cinque, può andare a distrarre tre, poi due, e ogni volta le dovranno mettere sul sottoturno corrente, quindi le prime che estrae le mette sull'uno e i giocatori devono scartare due o tre carte che hanno in mano. Nel secondo sottoturno dovrà magari metterne quattro o cinque sempre sul numero due e si va così avanti fino a che non si ha una combinazione, ma anche per meglio dire un pool comune di patatine colorate su tutte quante le carte e ciascun giocatore avrà in mano sei carte obiettivo. Di queste sei carte obiettivo, mano a mano che il turno va avanti, ne dovranno scartare fino ad averne tre in mano e queste carte obiettivo dovranno scegliere quale saranno le due attive e quelle invece che terranno come scartata o secondaria, perché nelle carte attive, girandole, poi tutti i giocatori quando finita la mano le girano per farle vedere, se riusciamo a fare combinazioni di patatine per quelle che sono nel pool comune si prendono i punti della carta, ma girando l'altra carta, quella che abbiamo messo come secondaria, se invece avessimo la combinazione elencata su quella carta i punti ci verranno sottratti. Poi a seconda di chi ha fatto più punti prende uno o due punti, il secondo in classifica ne prende uno. Quindi è anche bellino perché il primo giocatore che arriva a quattro punti praticamente ha vinto la partita. È molto semplice. In questo Crime Zoom, invece, l'ultima carta, ci sono le classiche carte numerate da 1 fino a fine del mazzo e inizialmente si va a comporre la scena del delitto con le carte e mano a mano che si va, questo è un gioco da fare tranquillamente in solitaria o in cooperativa, non c'è il turno, non esiste, quindi un po' come Sherlock Holmes è tutto quanto in tempo reale. Siamo degli investigatori appunto che dobbiamo risolvere questo caso. Si vanno a girare le carte per vedere dietro l'indizio che abbiamo trovato e non dobbiamo mai andare a prendere dall'altro mazzo di carte una carta qualsiasi fino a che non è il gioco che ci indirizza. Ci potrebbe dire magari se vuoi andare a prendere, se vuoi andare da quella parte, devi avere la carta numero 25, che magari la carta numero 25 è un piede di porco perché sono anche oggetti. Quindi è tutto quanto concatenato e sarà sempre la storia e la carta che prenderete a guidarvi verso la nuova location. Voi non dovete mai andare a pescare carte da quel mazzo fino a che appunto guardando la carta che vi è capitata, girandola e leggendo cosa è scritto dietro, non vi farete voi un'idea per andare avanti o non sarà il gioco stesso a dirti pesca carta tot, con numeretto tot. E qui alla fine dovremo prendere il libretto, c'è la soluzione, dovremo andare a vedere se abbiamo indovinato, ovviamente colpevole, l'omicida, quello è un classico, l'arma del delitto, il luogo dove la persona è stata uccisa, insomma dovremo risolvere tutto quanto il caso e scrivercelo su un foglietto e alla fine andare a controllare che le risposte date dal manualetto che poi è la guida finale, la soluzione finale, siano le stesse e vadano a concidere con quello che noi abbiamo scritto. Quindi un gioco veramente molto semplice e ve l'ho detto da, secondo me, anche questo, dove lo metti lo metti, fai divertire. In conclusione Crime Zoom e Bag of Chips sono due giochi freschi, divertenti, immediati dal costo ridotto per tutti, 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 secondo me ancora mi sentirei di consigliarlo alle famiglie perché sono i classici giochi che magari anche per la serata, la notte di Natale oppure il pranzo di Natale, l'ultimo dell'anno, è il classico gioco un po' come io mi piace sempre dire alla Dixit che per me è il capolavoro, dove lo porti, lo porti, fai divertire tutti e anzi una partita magari tira l'altra perché sono veramente molto interessanti e poi sono due giochi talmente piccolini che basta un tavolinetto e non c'è nemmeno tanto poi da disperdersi e da mettere a posto. Io ringrazio Asmod Italia per avermi offerto queste copie per le recensioni, vi ricordo, primo link in descrizione, in sovraimpressione, se li volete ordinare, direttamente dal nostro negozio sponsor Gioco Libreria Semola al miglior prezzo sul mercato e come vedete in nota a video e sempre in descrizione usate il codice discount tutto scritto maiuscolo CORIDAN7 per avere uno sconto del 7% se superate la spesa complessiva di 79€ spese gratis in tutta Europa in 24 ore ti arrivi a casa ho ordinato oggi, domani ce l'hai tempo di spedirlo e se il gioco lo trovate in lista ma è finito o non lo trovate mandate una mail a Corrado il proprietario della Gioco Libreria Semola scrivete una mail al supporto del sito e li fate presente che arrivate dal canale di Coridan lui anche se non ce l'ha in lista o è finito farà il possibile per trovarvelo quindi ragazzi dateci un'occhiata che sono due giochi che costano veramente poco e diverteranno secondo me tante tante persone ciao alla prossima